Latte 70, burro 120, carne 2000, lavanderia, stireria, le tendine, le posate, i centrini, le tovaglie ricamate, le lenzuola, le camicie, le camicie le portiamo anche a lavare, ma basta! Sono stufo, sono stufo, ogni giorno c'è una novità, hai capito, hai capito, non si può andare avanti con te, non ne posso più di una donna così. E non piangere! Dai, non piangere! Amore, ti prego, vieni a tavola a mangiare, ti giuro, non volevo litigare, dai, vieni, non farti pregare, Amore, tu sai che a volte parlo per parlare, sto chiuso in quella stanza, otto ore, sono stanco, dovresti capire. No? Non capisci? Già, come al solito non capisci, tu non sai cosa vuol dire, non parli, non rispondo, te ne freghi, non mi guardi neanche in faccia, e tu piangi, sì, tu piangi, così ti devo anche compatire, ma basta! Sono stufo, sono stufo, stai diventando il peggio di tua madre, hai capito, hai capito, non si può andare avanti con te, non ne posso più di una donna così. E non piangere! Dai, non piangere! Amore, non hai finito neanche mangiare, dai, mangia qualche cosa, per favore, che dopo facciamo l'amore. Amore, sai che a volte parlo per parlare, sto chiuso in quella stanza, otto ore, dai, va presto, facciamo l'amore. Ciao! 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 Grazie a tutti.